e sopra è Michele, il corpo di Dio, mostra il lavoro di Dio e solo da Giacobbe lui vede la scala, la scala che diventa Maria e la crucifizione a vacuna, la crucifizione fra bene e male no? L'amore è? Ah, è, attenzione, Gesù è stato precipito sulla scomba di Adamo Gesù è il nuovo Adamo che avrà la bilancia giudizio universale che l'è sceso sulla scala da Giacobbe tramite l'opera di Dio